Cos'è Guernica? Guernica è una città spagnola che sarà oggetto del bombardamento dei fascisti e dei nazisti che aiuteranno Franco nella guerra civile. Per questo, per il bombardamento a tappeto fatto contro questa città spagnola, Pablo Picasso deciderà di fare un quadro in cui descriverà questa vicenda drammatica in cui la città di Guernica verrà rasa al suolo rispetto alla città spagnola. Grazie a tutti Grazie a tutti